Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha firmato una nuova ordinanza che contiene le linee guida con le misure di sicurezza anti contagio da coronavirus che dovranno essere adottate per la riapertura di Luna Park e spettacoli viaggianti, musei e parchi archeologici, acquari con spazi espositivi al chiuso, equiparati ai musei e ai giardini zoologici, equiparati ai giardini pubblici. Altre disposizioni riguardano le guide turistiche alpine e ambientali, gli accompagnatori turistici, le biblioteche e gli archivi. Via libera anche alle lezioni musicali individuali. Continuiamo comunque questo lavoro un po' diciamo incessante, faticoso sia a livello regionale che a livello nazionale di confronto anche con le varie esigenze di singoli settori per vedere di mettersi a disposizione, produrre protocolli che da un lato garantiscono la sicurezza, dall'altro garantiscono l'attività di poter riprendere. Nell'ordinanza si dispone il via libera dal 3 giugno anche alla possibilità di venire in Toscana da altre regioni italiane per raggiungere le seconde case utilizzate per le vacanze. Nei prossimi giorni saranno emanate altre ordinanze per campeggi, balneari, parchi tematici e altre attività economiche.